Roberto Bergamelli, oggi seconda sconfitta consecutiva, fa male perché oggi davvero nel secondo tempo penso che in campo ci sia stata solo la gandinese. Sì, è stata difficile digerire sicuramente, sarà difficile anche parlarne martedì perché quando crei dieci occasioni buone e sto largo e non sto largo, difficile. Sarà mancato un po' di cattiveria lì davanti e sicuramente dobbiamo tornare a lavorare meglio dietro perché stiamo prendendo un po' di gol. Un po' sicuramente colpa nostra come è successo la settimana scorsa, però la testa bassa a lavorare sarà dura ma ci prepariamo per sabato. Ecco anche perché per statistiche la gandinese è una squadra che non so da quante partite succedeva che la gandinese non segnasse ma erano anche tantissime partite consecutive che la gandinese subiva sempre almeno un gol, stavo rivedendo le statistiche un solo tre clean sheet tutti e tre nelle prime cinque giornate e poi sempre gol subito. Come si lavora in quest'ottica? Si lavora stando uniti, lavorando bene per reparti, chiaramente non è solo a difesa ma a difesa più centrocampo e più attacco e sicuramente dobbiamo rialzare il livello un po' tutti, partire da me stesso che ho fatto qualche errore nelle ultime partite e rialzarci. La squadra c'è, è viva, l'abbiamo visto anche oggi, magari sta girando un po' male tipo oggi e il secondo tempo anche di domenica però si conosce sul lavorare, lavorare, lavorare e basta. Prossima partita contro il Mozzo, un'altra avversaria un po' invischiata in zone basse un po' di classifica e dovete subito provare a rilanciarvi, è ancora percorribile l'obiettivo playoff. Sì, sarà un'altra partita tosta come tutte ormai, non ce n'è una facile, noi ci crediamo come un gruppo squadra, ci crediamo quindi lotteremo per quello, poi arriveremo alla fine sicuramente a giocarcela e se siamo bravi entreremo, di sicuro non molliamo.